Domenico Umbro per il quarto anno consecutivo è presente al Book City di Milano 2020 come musicista nei progetti culturali presentati dall'associazione Da Ischia L'Arte, DILA. Infatti ha proposto concerti da solista nel 2017 nell'auditorium del Museo delle Culture MUDET. Nel 2018 ha suonato sia nell'aula magna della Società di Incoraggiamento Arti e Mestieri, Siam, sia nell'auditorium di Mare Culturale Urbano. Nel 2019 ha suonato brani musicali di Roberto Prandin su testi di Bruno Mancini nell'aula magna della Siam e nell'auditorium di Mare Culturale Urbano. Sue succinte biografie sono presenti in diverse antologie pubblicate a cura di Bruno Mancini e di Roberta Panizza con la collaborazione della testata giornalistica DIL DISPARI di Gaetano Di Mello, tra le quali vanno citate una pagina o un'emozione, penne, note e matite, magari un'emozione, tutelite dal sextante di Marapia Ciacchi.